Sono stata una vita, ma abbiamo salvato una vita a 15 persone e dobbiamo essere orgogliosi. Allora, in passato, quando un'altra comprensione di guardate il suo primo accendio, diventavano il privilegio di mettere via il camion una fila lunga. Quindi, Gabriele D'Adoso ci è resi molto orgogliosi. Il privilegio si è meritato a questo lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.